il quadratino giallo sono stato nominato dalla scuola materna purtroppo è il secondo giro che faccio perché la prima non è andata in registrazione allora devo nominare come ho detto prima tutte le maestre della scuola materna che non hanno fatto il gavettone soprattutto chi due maestre particolari un abita qua vicino a me che mi guarda e certa Anika e l'altra è la maestra Rosi maestra di Ia poi devo nominare Stefano Pozzato che non l'ha ancora affatto Giorgio Marconati e Alberto Brugnola così tiriamo dentro anche i genitori della scuola elementare sta registrando adesso è rosso? c'è scritto REC? meno male posto? si aspetta vediamo aspetta vediamo Grazie.